ciao a tutti e bentornati in tessila news quest'oggi parliamo di una sorta di incontro tra il lusso e la funzionalità un filato pelliccioso un gomitolo che sussurra storie di stile quindi mettetevi comodi e state ad ascoltare questa meravigliosa storia del filato partiamo subito con la composizione parliamo di un 100 per cento microfibra di acrilico e si presenta così in gomitoli da 100 grammi per una lunghezza di circa 65 metri per i quali consigliamo l'utilizzo o dell'uncinetto 7 8 parliamo quindi di un filato molto spesso oppure dei ferri 8 9 veniamo però adesso dei consigli per il lavaggio e il post lavaggio di questo meraviglioso filato pellicciosissimo consigliamo di lavare la vostra creazione ad una temperatura che non superi i 30 gradi sconsigliamo l'asciugatrice invece consigliamo di tamponare la vostra creazione con un asciugamano per togliere l'acqua in eccesso e poi riporla su una superficie piana lontana da fonti di calore eccessive non potete ovviamente stirarla ma credeteci neanche ne ha bisogno non è possibile candeggiarla ma è possibile utilizzare tutti i solventi eccezion fatta il tetra cloretilene meraviglioso filato come meravigliosi sono i colori che porta veniamoli tutti lo abbiamo visto insomma diciamolo il dion non è solo un filato e bensì un'esperienza 100% microfibra di acrilico quindi davvero una morbidezza unica e una qualità che urla eccellenza ad ogni tocco ma il dion non si ferma qui ebbene sì sicurezza e stile abbiamo entrambi il dion infatti porta con sé la preziosa certificazione ecotex che è quindi simbolo di sicurezza ma anche rispetto per la pelle adesso però veniamo ad un po di magia pratica per cosa potrebbe essere utilizzato questo dion beh per dei meravigliosi poncho avvolgenti tappeti accoglienti cappelli alla moda e perché no borse anche molto raffinate con il dion ebbene sì tutto questo può diventare realtà un piccolo promemoria per tutti gli amanti del bello trattiamolo con cura questo dion un lavaggio a 30 gradi così che possa rimanere splendente come il primo giorno insomma in un mondo pieno di filati il dion sa sicuramente come spiccare io vi ringrazio come sempre per averci seguito vi ricordo di iscrivervi su tutti i nostri social vale a dire instagram pinterest facebook e youtube ma anche soprattutto al nostro unico solo ed ufficiale gruppo tessiland è presente appunto proprio su facebook cliccate anche un bel pollice in su sotto questo video e noi ci vediamo al prossimo articolo ciao